Venerdì 23 novembre, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. Sarà interrogato nelle prossime ore l'uomo arrestato a Termoli per tentato omicidio, l'indagato ha aggredito un conoscente con un coltello a serramanico ed è fuggito, poi è stato rintracciato e portato in carcere. Non sono ancora chiari i motivi del litigio sfociato nell'accoltellamento, l'uomo è ricoverato con ferite da arma, da taglio al corpo e al collo. Sentiamo il servizio di Fabrizio Chionero. È rinchiuso in carcere a Larino in attesa dell'interrogatorio di garanzia un operaio di 54 anni di Termoli arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. per aver accoltellato un sessantenne della città. Al giudice per le indagini preliminari potrà spiegare la sua versione dei fatti in seguito all'aggressione avvenuta nella zona residenziale di Via Udine. La vittima, dopo le prime cure prestate dal personale del 118 e dai volontari della Misericordia, è stata trasferita all'ospedale Cardarelli di Campobasso per essere sottoposta a un intervento urgente, ma non sarebbe in pericolo di vita. In base alla ricostruzione fornita dai militari della Compagnia Adriatica guidati dal Maggiore Fabio Ficuccello, l'uomo è stato avvicinato e colpito più volte con un coltello serramanico. Colpi inferti in varie parti del corpo sembra al culmine di una lite tra i due, forse scoppiata per qualche vecchia ruggine o questioni irrisolte. I carabinieri sono riusciti a rintracciare l'aggressore in una zona del centro e l'hanno portato in caserma. Dopo gli accertamenti è scattato l'arresto. È stato ritrovato in un'aiuola e posto sotto sequestro anche il coltello a serramanico utilizzato. Sono in corso ulteriori indagini coordinate dalla Procura di Larino per verificare la presenza di eventuali testimoni e fare chiarezza sull'accaduto. Molestie sessuali sul lavoro, stalking e risvolti sociali ed economici della violenza. Il tema del secondo appuntamento del corso di diritto antidiscriminatorio dal titolo Adesso basta discriminazione organizzato dall'Ufficio della Consigliera di Parità della Regione rappresentato dall'Avvocato Giuseppina Cennamo in collaborazione con la Scuola Forense del Molise con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del Cug, della Consigliera di Parità dell'Università degli Studi del Molise. Il corso si svolgerà oggi pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 all'Unimol, l'Università del Molise, nella Sala Biblioteca Fermi. Parliamo adesso della docu-fiction ambientata interamente in Molise dal titolo Una terra chiamata Molise 2, seconda edizione di un progetto che ha riscosso successo sul web. Sentiamo. Un progetto dell'Associazione Il Villaggio della Cultura, una docu-fiction per raccontare il nostro territorio dopo una terra chiamata Molise, è arrivata la seconda edizione Una terra chiamata Molise 2. Marica Mastropaolo e Silvio Giorgio sono ripartiti dagli ottimi risultati del precedente lavoro che sul web ha avuto oltre 93.000 visualizzazioni. La formula di questa seconda edizione è la stessa, quindi avremo nuovamente una storia raccontata in puntate che questa volta saranno 15 e una parte documentale, quindi quella parte attraverso la quale noi mostreremo le nostre aziende, mostreremo quelle che sono le nostre realtà locali ad ampio raggio a 360 gradi, la nostra bellissima natura, le nostre chiese. Insomma, in Molise c'è tanto e noi cerchiamo per la seconda volta di raccontare quel tanto che c'è. Lo facciamo attraverso il web. Una terra chiamata Molise 2 è una docu-fiction a puntate trasmessa sul web e girata interamente in Molise. La prima puntata è stata caricata il 18 novembre e si andrà avanti fino a gennaio. Le puntate andranno in onda ogni domenica e giovedì, la sera. La sera le pubblicheremo perché è il momento in cui tutti torniamo dal lavoro, ci rilassiamo e quindi abbiamo la possibilità di metterci un attimo sul divano e godere di qualche momento di tranquillità, magari guardando questa docu-fiction. È chiaro che però, parlando del web, le puntate saranno disponibili 24 ore al giorno, per cui potranno sempre andarsi a vedere su Facebook, su YouTube, su Twitter e anche Instagram rappresenterà un canale che riporterà le puntate. Visualizza e condividi è il motto di chi ha ideato, scritto e girato la docu-fiction Una terra chiamata Molise 2. È stato spiegato alla presentazione del lavoro a Campobasso. In modo tale che tutti possano, dopo aver visto la puntata, anche esprimere la volontà di farla girare attraverso le condivisioni. Farla girare allo scopo di portare il Molise lontano, soprattutto ai nostri emigrati, a tutti quei molisani che per motivi di lavoro, di famiglia, hanno dovuto lasciare la propria terra natia e spostarsi in altre regioni d'Italia, se non in altri paesi del mondo molto lontani. Infrastrutture viarie e ferroviarie, il Molise è sempre più isolato al suo interno e del resto del mondo, idee e proposte per superare le ataviche emergenze. Sono questi temi in disposizione nella puntata di Moby Dick, in diretta questa sera su Telemolise. A partire dalle 21, ospiti di Giovanni Minicozzi saranno Vincenzo Niro, assessore regionale di infrastrutture e trasporti, Lorenzo Coia, presidente della provincia di Isernia, Rino Morelli, Assindustria Molise, Corrado Di Niro, presidente dell'ACEM, l'Associazione dei Costruttori Edili, Nicola Manocchio, sindaco di Fossalto e Giovanni Gianfelice del Comitato Utenti. Sono previsti anche gli interventi esterni del presidente della provincia di Campobasso, Antonio Battista, dei sindaci di Agnone, Lorenzo Marcovecchio e di Civita Campomarano, Paolo Manuele e del consigliere regionale Nico Romagnolo. È tutto per la nostra informazione, adesso la rassegna stampa. Con Daniele Ricciuto in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it. Pia digitale, il Movimento 5 Stelle chiede l'UMI sulla revoca dei servizi a Molise dati ed eventuali danni erariali, l'articolo di Giovanni Minicozzi. Poi Fiat, altri quattro giorni di cassa integrazione stop produttivo anche per i nuovi motori. Agnone sveglia all'alba per partecipare alla messa del piccolo Natale, poi economia del Molise, Banca Italia, industria terziaria e occupazione in ripresa nei primi mesi del 2018. Sanità torna a frattura, in Molise servizi di qualità e merito nostro. Pastore dice un giudizio fuori dalla realtà. Isernia sorpreso alla guida di un'auto con targa clonata denunciato dalla polizia stradale. Isernia alla guida sotto l'effetto della droga, ragazza denunciata dai carabinieri e poi termoli, aggressione con un coltello in via Udine, un arresto per tentato, omicidio. Campobasso, ladruncolo, seriale, acciuffato dai poliziotti. Ci sono poi le altre notizie sul giornale del molise.it, c'è anche la sezione editoriali idee e opinioni. Vediamo adesso come titola. Primo piano Molise, timidi segnali di ripresa, cresce l'economia molisana. Buone notizie del rapporto Banca Italia. Nei primi mesi del 2018 bene l'industria e l'export trainati da automotive e alimentare soffre il comparto delle costruzioni. Il tasso di occupazione sale dell'1,8% rispetto all'1,2% della media nazionale, dati coerenti con l'andamento del mezzogiorno e poi ricostruzione post-sisma. Pagamenti a febbraio, ACEM tre mesi sono troppi, falliremo. Sanità, l'ASREM ha approvato il progetto, partono i lavori per la Stroke Unit al Cardarelli. E poi la cronaca follia in via Udine a Termoli, vecchie Ruggini, Netturbino a Coltella, ex vicino di casa arrestato dopo caccia all'uomo, vittima in prognosi riservata. Campobasso, borseggiatrice, 53enne fermata dalla polizia. Campomarino, volto coperto e pistola, colpo al bar della ERG. E poi l'editoriale di Luca Colella, commissario attesa infinita, 5 Stelle depotenziati dalla Lega. Vediamo le notizie poi di sport, calcio, lupi, musetti pronto a dare battaglia in avanti, possibile debutto da titolare all'Orogel Stadium, tifosi in fermento, già 100 tagliandi. Eccellenza, il Vasto Girardi progetta altri tre acquisti per mister Farina e kickboxing europei. Mattia Amatuzio conquista un posto in finale. Vediamo adesso il quotidiano del Molise. C'è la cronaca in evidenza, coltellato per strada dopo la lite, un uomo di 60 anni è stato attinto al petto da fendenti, ora è in gravi condizioni al Cardarelli di Campobasso. L'aggressore è un netturbino di 54 anni e deve rispondere di tentato omicidio. A Termoli è accaduto ieri mattina in via Udine, i carabinieri hanno ritrovato l'arma e arrestato l'uomo. Taglio alto, Banca d'Italia, cresce l'occupazione, bene l'exporto e il terziario, male l'edilizia. Per i trasporti, per la regione in arrivo dal Ministero altri 8 milioni e mezzo di euro. Sanità, il Santissimo Rosario, ospedale strategico, quasi 40 sindaci, premono per l'accordo di confine. Pozzilli, pennacchio di fumo sospetto nel nucleo industriale, l'azienda smorza i toni, nessun allarme, dice. Poi Regione Molise e dati, 5 stelle, chiedono l'UMI a Toma. Scuola digitale in Molise, 1.500 studenti da tutta Italia. Per futura Campobasso, la tappa regionale del progetto organizzato dal MIUR, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Le altre notizie, Campobasso, casa circondariale, scuola di polizia, stage formativo, sempre nel capoluogo, borseggiatrice, incastrata da video di sorveglianza. A Campomarino, armati e pronti a tutto, rapinano la stazione di servizio. Toro, ucciso a Maracai, sbloccato l'iter per il rientro della Salma. Vediamo invece le notizie di sport, calcio serie D, il sogno vittorio esposito e poi lupi nel cuore, trattativa avviata, lascia il gruppo anche dorsi. Serie D, Isernia del Prete, vicino all'addio, direzione Campobasso, l'Agnone si prepara alla Iesina. Vediamo adesso futuro Molise come titolo a Campomarino, rapina a mano armata al bar della Total Erg sulla Statale 16, bottino 300 euro. Termolilite tra due uomini, finisce accoltellate, ferito un sessantenne. Poi rapporto sull'economia regionale, timidi segnali di ripresa per il Molise. Alberghiero di Agnone, l'amministrazione comunale contro Greco con i suoi esposti ha causato solo disagi. E poi ancora torna la colletta alimentare, sono 450 punti vendita di Abruzzo e Molise che aderiscono all'iniziativa. Un anno fa moriva Giorgio Palmieri, il ricordo dell'assessore comunale di Isernia, Eugenio Chianinski. E ci sono poi le altre notizie su futuro Molise. I quotidiani nazionali, adesso partiamo con la Repubblica. Manovra, Salvini frena, Conte Di Maio basta guerra all'Unione Europea. Il vicepremier dei 5 Stelle sia al dialogo, ma le misure restano. Bruxelles richiamo anche sui vaccini. C'è poi l'inchiesta chiusure festive. La domenica resta tutto come prima e l'intervista a Massimo Moratti, governo sordo alle imprese. Volontari come Silvia Romano, la bellezza di impegnarsi che salverà il mondo. Ci sono i giovani volontari che operano appunto nel mondo. Volontari come Silvia Romano che è stata rapita in Africa, in Kenya. Ci sono poi le altre notizie sulla Repubblica. Vediamo adesso come titolo invece il Corriere della Sera. L'allarme su spread e mutui. I timori di Tria, Conte. La manovra si può rimodulare. Di Maio più tagli. Visco a Bruxelles. Non ci sono nemici. Fisco salta il condono. Sanatoria solo sugli errori. Poi vediamo ancora le altre notizie sul Corriere della Sera. C'è l'intervista a Mohamed Zarif, il ministro degli esteri di Teheran. Iran e USA, nessun negoziato. Trump non è affidabile. Poi incendia la casa dell'ex moglie e uccide il figlio. Mantua aveva il divieto di avvicinarsi. Ennesimo caso di cronaca con queste modalità purtroppo. Silvia e gli altri. L'indifferenza e gli insulti sugli italiani rapiti all'estero e l'approfondimento di Pierluigi Battista. Dal Corriere della Sera passiamo adesso a vedere come titola il Fatto Quotidiano. Ecco chi paga i partiti. Anticorruzione passa. Norma Movimento 5 Stelle sulla trasparenza sopra i 500 euro. Sigarette elettroniche. Lega Cacciatori Fratelli d'Italia. Famiglia Guidi PD scrive il Fatto Quotidiano facendo i conti in tasca. Poi Coni, le porte girevoli tra lo sport e la politica. Eterno legame tra Andreotti e Malagò. E poi due sindaci condonisti di Ischia con Minniti, Ferrandino, Exdem e Del Deo. Iodici 24 carati. Passiamo adesso a vedere come titola avvenire il Quotidiano dei Vescovi oppressi nel silenzio. 300 milioni di cristiani soffrono persecuzioni in 21 paesi in situazione grave che non fa notizia. Scrive avvenire aiuto alla chiesa che soffre fotografa la realtà dei credenti. Emergenza in Nord Corea, Arabia, Nigeria, Afghanistan ed Eritrea. Sia l'anticorruzione sulla manovra Siballa, governo con l'Unione Europea, mezze aperture e timori per lo spread opposizioni così nel baratro. Passiamo ora alla prima pagina del mattino. Conte prende tempo con l'Unione Europea. Rimoduliamo la manovra. L'offerta del Premier dilatare l'entrata in vigore di reddito e quota 100. L'allarme di Tria, del Ministro Tria, mutui più cari con lo spread a 300. Torna il bonus. Bebe. Poi al prossimo coro razzista chiedo stop della partita. L'appello ai nostri tifosi non insultino più gli avversari. La battaglia di Ancelotti a Bergamo pronto al gesto estremo. Violenza contro le donne. La vergogna dei fondi spariti, scrive Daniela De Crescenzo. Il manifesto I2 di Coppe è il titolo. In evidenza Conte alla Camera chiede all'Unione Europea più tempo. Tria ammette che lo spread influirà sui mutui. Alla vigilia dell'incontro con Juncker, Premier e Ministro abbassano i toni, ma a decidere sono Di Maio e Salvini. Il commissario Moscovisi, venditori di tappeti, dice, ed è zuffa con il leader leghista. E poi allarme rosso sul clima, gire subito, inquinamento record. L'ONU, appello dell'ONU, si riducano le emissioni o le conseguenze sono irreversibili. Dal manifesto al tempo, morto un condono se ne fa un altro via dichiarazione integrativa e transazione a saldo e stralcio, ma l'esecutivo apre a una nuova sanatoria sui contributi IMS. E c'è poi dopo quest'altra notizia una tassa per guidare in mezza Roma. L'aggiunta raggia approva il progetto Ecopass, una ZTL più larga, auto stangate. Si salveranno le due ruote. Vediamo adesso la stampa di Torino. Come titola, gli italiani non si fidano dei BTP. Crolla la domanda dei risparmiatori. Il Tesoro colloca 2,2 miliardi di titoli in mani, cercava almeno 7,7. Domani Conte da Juncker, pronto a offrire una manovra bis per aggiustare i conti dopo le europee. Poi Doris lo spread ha spaventato i consumatori. Assalto ai consulenti finanziari. Tutti vogliono protezione. L'ultima stretta di Putin, la censura, ferma i libri dall'estero. L'impero di mezzo punisce Dolce e Gabbana, ira di Pechino contro lo spot controverso. Vediamo adesso come titola la verità. In TV c'è l'assalto dei tromboni venuti dall'estero a insultarci. Non solo l'uligan tedesco Gumpel, dalla mattina alla sera il palinzesto occupato dai vari Friedman ed altri impegnati a educare gli italiani, sorvolando bellamente sulle malefatte di casa loro, scrive la verità. Poi Francia e Spagna sforano alla grande, ma per loro niente punizione dell'Unione Europea. Non firmate il patto con il diavolo ONU sui migranti. Il ministro degli esteri sta per sottoscrivere un documento che di fatto abolisce i confini. Salvini e Di Maio che fate? È l'interrogativo di Francesco Borgonovo. Vediamo adesso come titola il sole. 24 ore. statali e quota 100. Prestito ponte per i TFR di chi va in pensione. Pubblico impiego. A costo zero potrà essere chiesto alle banche l'anticipo della liquidazione. Il rimborso degli interessi per il periodo di copertura sarà a carico dello Stato. Decreto fiscale sanatoria per gli errori formali fino al 24 ottobre. 200 euro in due rate. Poi manovra contesi a ritocchi. Se utili a favorire la crescita. Vediamo adesso come titola il messaggero. L'Italia chiede tempi lunghi all'Unione Europea. Manovra l'apertura di Conte. Possibile rimodularla. Di Maio dialogo a oltranza. Tria. Prestiti e mutui più cari se lo spread non calerà. Record negativo per l'asta BTP. E poi Roma scoperti nascondigli segreti nelle ville in demolizione. Casamonica contro i vigili. Tre fermi. Minaccia alla raggi. Scorta rinforzata. Buongiorno. Statali l'inefficienza punita. Come i piccoli reati. L'intervista il ministro della pubblica amministrazione dice una struttura valuterà i casi. Giustizia prima le garanzie. Passiamo adesso a vedere il secolo. D'Italia come titolo. Allarme mutui. Secondo Trianne. L'interesse del paese dell'Unione Europea. Sdrammatizzare i toni del dibattito interno ed esterno per garantire la prosecuzione del dialogo sulla manovra. Il vero ruolo di Monti. Primo alleato del Salvi Maio. E poi Meloni attacca Bruxelles. Coprono Deutsche Bank. Giovanotti. Altro titolo celebra Asmara ma subito è polemica per l'un ambientato appunto in Eritrea. Vediamo adesso come titola la gazzetta dello sport il Black Friday del mercato. Scatta l'ora delle offerte. 50 affari in saldo per evitare la bagarre di gennaio. Ci sono i nomi dei giocatori a costo zero. Tra cui c'è anche Vidal e Ibraimovic. Poi ci sono i super sconti tra cui Ramsey, Fabregas, Rafinha e anche Darmian del Manchester United. Kenne, Vidal e Malcom possono muoversi gratis. E Ibra, Milan avanti tutta. Sei mesi a 3 milioni. Ok per il fair play. sprint col Paris Saint Germain tra le big. Juve sette vittorie per un anno record toccando i 103 punti. Il focus tecnico è un Inter all'angolo a più corner di tutti. Nessuno diventa gol però. Poi l'intervista il governatore Toti. Genova ha bisogno di un grande derby. e ci sono poi le altre notizie sulla Gazzetta dello Sport. Termina qui la nostra rassegna stampa. Prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise e come sempre in diretta alle 14 con il telegiornale. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito.